Bene, io mi fermo qui. La mia era soltanto una introduzione e una veloce presentazione con qualche suggestione. Lascio la parola a Giampaolo D'Andrea che ringrazio moltissimo per aver accettato questo invito. Ricordando che l'iniziativa di oggi è organizzata dalla Fondazione Gramsci in collaborazione con l'ANIMI, l'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, grazie proprio anche al coinvolgimento di Giampaolo D'Andrea a cui lascio la parola. Vi do un quarto d'ora per questo primo giro e sarò anche un po' antipatico. Grazie per l'invito, grazie soprattutto per lo stimolo a leggere questo numero di Meridiana con i contributi dedicati ad alcune questioni fondamentali della storia della Basilicata. Diremo tra gli anni 50 e l'80 prevalentemente con le due code che riguardano i temi della politica energetica che naturalmente riguardano, si prolungano nei decenni successivi, sia sul fronte delle energie fossili, il petrolio, tra parentesi antica energia fossile della Basilicata, non una cosa scoperta all'ultimo momento, sia dell'eolico naturale fonte di energia in Basilicata perché la sua conformazione con le punte orografiche che raggiunge, rende l'eolico in qualche modo permanente come forza motrice, diciamo così più semplicemente, con tutti i problemi che ne derivano dal punto di vista, lasciatemelo dire, passato dirigente del Ministero dei Beni Culturali, sia dal punto di vista paesaggistico, il tema non è irrilevante rispetto alla tutela dei valori del paesaggio, sia dal punto di vista delle ricadute di trasformazione in energia utilizzabile, in energia utile. Tutte questioni che si intrecciano naturalmente con la natura particolare della Basilicata. Lasciatemi anche dire che pur non avendo per loro distrazione avuto l'attenzione di Einaudi quando ha ipotizzato la sua articolazione delle storie regionali, la produzione di studi sulla Basilicata è enorme, è diffusa, sicuramente sproporzionata rispetto alla entità sia demografica che territoriale di questa regione e ha consentito diversi momenti di confronto, di valutazione e di riferimento. L'apporto specifico che io vedo in questa serie di contributi pubblicati nel numero 105 di Meridiana è legato all'approfondimento e in alcuni casi anche alla rilettura di alcuni passaggi della storia della Basilicata che riguardano, come è stato ricordato, alcuni momenti topici. Io li voglio indicare. La riforma agraria e i suoi effetti nell'immediato dopoguerra, quindi anni 50. Prima applicazione della legge Sila e della legge Stralcio, perché se non riusciamo a collocare le cose al loro posto poi diventa complicato capire anche i raffronti con le altre regioni, anche lo scarto che c'è tra l'immaginato e il realizzato, posso dire così. La seconda questione è lo sviluppo industriale. Guarda caso, lo dicevo prima, dell'area del metapontino, dell'area in questo caso del metapontino interno, cioè dell'area di Pisticci, cioè legata alla presenza di energia fossile in Basilicata. Tutta l'industria chimica della Basilicata, non a caso originata da un'iniziativa del governo e dell'Eni dell'epoca, guidata da Mattei, ha come centro questo tema dell'industria chimica. Perché per sua conformazione geologica, in questo caso e manco geografica, la Basilicata si diceva allora, anche esagerando, galleggia su un mare di petrolio. Se voi leggete i testi allora dicevano così, i geologi soprattutto. In realtà c'era un precedente, nel 1857, credo, cito a memoria, correggimi se sbaglio la data, quando ci fu il terremoto nella Valle dell'Agri, uno dei terremoti più consistenti che ha interessato la Basilicata, quello della Valle dell'Agri, all'atere di questo terremoto, guardate, il riferimento non è casuale, Valle dell'Agri, oggi c'è l'insediamento dell'Agip avvigiano, in quell'area emerse, dicevano gli studiosi da allora, di ricco soprattutto, un mare nero che non si capiva lì per lì che cos'era, poi piano piano cominciarono ad affare gli approfondimenti e capirono che era il petrolio emerso, sollevato a seguito della scossa sismica. Vi potete immaginare che la natura di questo tipo di presenza nel sottosuolo conosce poi un suo dinamismo, si può assorbire, può scendere sotto, può risalire anche senza effetti ulteriori, è data la materia che non è liquida nel senso proprio, bisogna sempre ricordare questo, ma è il miscuglio di, lo dico in soldoni, mi perdonino gli esperti, di gas e materia fossile. Questo è. Quindi, insomma, non è stabile e non è stabilizzata. Tornò poi questa storia del petrolio negli anni, l'avete ricordata voi, ho visto in uno dei saggi, negli anni Sessanta, quando soprattutto nella zona di Tramutola, si, Piero tu forse te lo ricorderai, si individuarono dei nuovi episodi piuttosto significativi. Ma devo dire che l'abbondanza di acque termali diffusa qua e là in Basilicata ha, secondo i geologi, sempre segnalato questa natura del tutto particolare di rapporto tra il territorio della Basilicata e il petrolio. Mi sono soffermato su questo e credo che convenga partire un attimo da questa riflessione. Quando il petrolio è diventato, per ragioni anche... Allora, vediamo, primo momento. Il petrolio nella... I giacimenti della valle del Basento. Della valle del Basento. Quelli che hanno dato origine alla prima industria chimica manifatturiera del Mezzogiorno, perché non c'era altro. La Montedison comincia lì i suoi esperimenti. Naturalmente in condizioni di conoscenze generali non brillanti, con effetti che negli anni si sono anche scontati. Io ricordo tutta la dolorosa questione del rapporto tra la utilizzazione di questi elementi del sottosuolo e i danni che si facevano non solo all'ambiente, il tema c'è, ma anche alla salute delle persone. Tutti i residui di amianto che si producevano nel circuito molto discutibile legato allo smaltimento dei materiali che venivano adoperati, fu una questione che agitò in quegli anni la Basilicata man mano che andava avanti l'investimento industriale. Ma non c'è dubbio che quell'investimento industriale realizzato poco più a nord dell'esperimento più riuscito, come dite voi, di riforma agraria che è quello del Metapontino, cambia totalmente la geografia economica di quelle zone. Con tutti i discorsi che vogliamo fare, cambia totalmente la geografia economica. Anche sul versante di un tema molto originale, trattato con originalità, che ho trovato qui, che è quello del rapporto tra la mobilità e la emigrazione. Questi territori erano oggetto di immigrazione dalle aree vicine. State attenti, voi lo segnalate molto bene, ho visto che è acutissima quella lettura. Di immigrazione, sia pure di una mano d'opera non qualificatissima all'udo a quelli dell'agricoltura, perché era prevalentemente quella bracciantile che poteva essere, ma che si riversò nell'area del Metapontino, come accadde in altre aree italiane nelle quali la riforma agraria determinava effetti. Pensate alla Maremma e al rapporto con la Sardegna. Ricordate, chi di voi non so chi di voi ce l'ha presente, gli anni di rapporto, si determinò questo movimento. Quindi noi non abbiamo avuto come noi pensiamo nelle ricostruzioni italiane dei movimenti migratori interni solo la attrazione dell'industria del nord rispetto al sud. Abbiamo avuto anche questi movimenti orizzontali, paralleli, che hanno interessato le aree di successo della riforma agraria nella prima parte dell'applicazione di questi provvedimenti. Perché non c'è dubbio che il superamento dell'atifondo incolto, non solo dell'atifondo in sé, a beneficio o della piccola proprietà cooperativizzata o anche di una sorta di proprietà anche media secondo le regole del capitalismo agrario poi dell'epoca, determinava attrattività dal punto di vista della popolazione lavorativa e quindi movimenti, insediamenti. Si è modificata, lo dica Beppe Vacca che da esterno però ha visitato più volte la Basilicata, addirittura una modificazione della geografia istituzionale della Basilicata. Sono nati comuni come Policoro dalla dallo smembramento possiamo dire dalla dei comuni di partenza cose significative ma la stessa cosa anche se poi non è retta a comune accaduta in Val d'Agri tra Marsicovetere e i paesi della montagna e Villa d'Agri prima state attenti perché questo è prodotto dell'agricoltura e non è effetto della successiva questione del petrolio. Allora questo è un tema bello io devo dire facci i complimenti perché siete tra siete insomma la rivista e tra i primi a segnalarlo come fatto specifico questa della della mobilità e della immigrazione quindi della attrazione di mano d'opera dall'esterno con tutti i limiti voi per carità l'avete messi in evidenza. Il secondo aspetto che mi ha colpito devo dire favorevolmente è un'integrazione di lettura posso dire delle valutazioni di carattere politico che si sono fatte sulla riforma agraria e sui suoi effetti in Basilicata. Innanzitutto perché tirando fuori un po' dagli archivi del partito comunista e del sindacato abbiamo cominciato ad avere alcune una parte di documentazione che è quella che esprimeva quella valutazione di cui bisognava tenere conto che fino ad ora negli studi non era venuta fuori nessuno ci aveva messo le mani sopra e invece è preziosa. Uno degli studi dice che è persino incompleta la cosa perché manca la valutazione di parte democristiana cioè manca lo stesso lavoro di utilizzazione di fonti della democrazia cristiana che in realtà non c'è mai stato anche se qui mi sarebbe facile dire non c'è dubbio che l'ADC esprimendo le forze di governo di quel momento è difficile trovare una valutazione è difficile trovare una valutazione specifica della democrazia cristiana che non coincida alla fine con la valutazione dei poteri istituzionali dell'epoca governo province comuni ente di riforme tutti quelli che facevano parte dell'apparato istituzionale però sarebbe interessante vedere se c'è dibattito interno valutazione interna come emerge anche da quello che voi avete detto avete ricostruito in alcuni passaggi sulla posizione del PC poi c'è un altro tema interessante Pietro noi ne siamo anche stati testimoni in parte per alcuni passaggi protagonisti della dinamica politica che si innesta subito dopo la prima legislatura della regione a statuto ordinario ora sono passati parecchi anni pure là sono passati 50 anni quindi voglio dire il tema è maturo per essere trattato con il distacco che richiede quando in Basilicata si sperimentò prima regione meridionale questo può essere considerato un vanto o una un limite a seconda dei punti di vista anche nel dibattito di oggi quello che si chiamava si chiamava giunta aperta ma in realtà era una formula un po' ambigua io lo riconosco per primo pur avendoci messo la firma sotto a quei documenti un po' ambigua perché consentiva l'esistenza di una cosiddetta maggioranza di programma caso anomalo poi rispetto a tutti gli altri esempi successivi distinta da una maggioranza politica con una situazione che aveva un governo regionale di centrosinistro organico tradizionale cioè di CPSI PSD ma con un accordo di programma a cui partecipava non solo votandolo ma attivamente nella stesura anche il partito comunista e qui voi avete messo in luce alcune motivazioni le prime di Ziccardi che si leggono che sono che un po' il padre di questa operazione lo possiamo dire e anche le altre per esempio il discorso di montagna che va nella stessa avete citato che è il capogruppo allora che va nella stessa direzione che spiega perché si fa una cosa del genere e perché nonostante che si faccia una cosa del genere perché questo ce lo siamo domandati pure allora e ce lo domandiamo pure oggi i rapporti tra comunisti e socialisti non solo non si alterano si sarebbero potuti alterare perché i socialisti rimanevano sempre nella giunta politica diciamo così e quindi rendevano possibile i governi guidati dall'ADC o comunque alla prevalenza dell'ADC e i comunisti sempre all'opposizione grazie a questa scelta dei socialisti perché se non ci fosse stata quella in alcuni casi si era pari pari quindi si poteva vedere come andava a finire però matura un processo interessante voi ci avete dedicato due cose abbastanza dirette ma tutta una serie di riferimenti in altri testi matura un processo nel quale contemporaneamente si rafforza un rapporto tra i socialisti e i comunisti che salvaguarda poi le giunte di sinistra laddove sono nate non è che nascevano solo nei piccolissimi comuni era insomma importante la geografia da questo punto di vista e dall'altro lato invece rimaneva comunque saldo il rapporto tra l'ADC socialdemocratici e socialisti non vi risulti strano più saldo con i socialisti che con i socialdemocratici questo ve lo aggiungo anche come impressione diretta mia che si si ho finito infatti arrivo esattamente alla conclusione qui ed è un percorso interessante questo esperimento di giunta aperta come si definì allora finisce un po' dopo ma non subito perché si realizza nel 75 attraversa tutta la legislatura che va da 75 all'80 e paradossalmente finisce quando finisce la presidenza Verrastro che era quella che l'aveva avviata attenzione Verrastro al quale la valutazione del partito comunista ufficiale all'inizio non riconosce cioè riconosceva anche qualità ma lo riconosce riteneva che fosse troppo lo dico in soldoni troppo accentratore ed autoritario e quindi uno con il quale sarebbe stato difficile realizzare meccanismi di convergenza che invece passarono anche attraverso l'avvertenza basilicata perché anche quel capitolo sull'avvertenza basilicata ricostruito dal fronte sindacale mette in luce alcune altre cose che cioè il tema dell'avvertenza che fu poi presentato in Campidoglio alla presenza di alcuni ministri tra i quali Morlino che abbiamo ricordato l'altro giorno nel quarantesimo della morte fu presentato dal presidente della regione a nome di tutti i soggetti che avevano partecipato alla vertenza basilicata e cioè tutte le forze che sostenevano il governo tutte le regionale tutti i tre sindacati e il partito comunista che non era un invitato così di ceremonia era un soggetto attivo nella delineazione della strategia di questa vertenza basilicata ricordo e chiudo su questo le ore che utilizzavamo per mettere a punto la convergenza sui documenti sulle proposte sulle piattaforme con un lavoro di approfondimento politico notevole non è stato mai qualunquistico il confronto su questi temi perché poi tu con la battuta te la cavi fuori fai una battutella e finisci ma quando sei a un tavolo di riunione e ti confronti con i problemi poi i problemi sono problemi e non è che puoi negare che esistano una bella esperienza ripeto in questo modo l'unica la prima e poi anche l'unica in questa conformazione svoltasi realizzatasi in Italia in quegli anni in un contesto nazionale e chiudo che era quello della solidarietà nazionale oggi è il giorno della morte di Moro e quindi ricordiamo così anche lui che è stato l'interlocutore principale di questo disegno a suo tempo e che però poi si esaurisce quando si esaurisce anche a livello nazionale quella stagione qui con percorsi più vari e con giudizi i più vari ecco io ho riassunto così in una lettura globale quello che ho trovato di interessante e di stimolante come contributo che viene fuori da questi saggi che sicuramente aiutano ad avviare una riflessione e anche una stagione di studi nuova perché l'appello a cercare un po' nelle carte democristiane va fatto va accolto ma anche perché forse dobbiamo un po' di più mettere la testa sulle cose anche ad approfondire alcuni snodi che poi non sempre i tempi delle decisioni politiche riescono a prendere in considerazione nel momento giusto e nella maniera giusta mi fermo qui grazie 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 grazie